l'approccio new angel acquario è stai male curati hai un problema risolvilo sold out all anche cinema di bari per io vergine tu pesci di giuseppe sorgi che accanto a me buonasera buonasera alessandra buonasera a tutti buonasera al pubblico che mi ha accolto a bari in modo esagerato tantissime le richieste continuano ad arrivare guarda diciamo subito una cosa ne parlavamo poco fa telecamere spente assolutamente prossima stagione d'ottobre cominceremo con più appuntamenti promesso non anticipiamo no 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 ma parliamo nello specifico dello spettacolo per chi non potrà goderne io vergine tu pesci nasce un libro poi arriva allo spettacolo a teatro si è tutto nasce dalla presentazione del libro le classiche presentazioni che si fanno la feltrinelli che si fanno è il libro è stato subito accolto in maniera molto molto positiva tenendo presente che la passione per l'astrologia è sempre stata sembra quasi una sciocchezza detta così ma è stata sempre da me molto tacciuta perché sai ambiente dello spettacolo per cui era una mia cosa personale fin quando per caso ma per caso un capitoletto che avevo scritto ad uso amichevole familiare sul segno della vergine è finito sulla scrivania di maria grazia mazzitelli adesso una cara amica nonché nome da editoria direttrice della sala editore che mi telefona io ancora non ci conoscevamo e mi dice il succo era se facciamo 12 capitoli così ne facciamo un libro proposta che mi colse un po impreparato perché tutto potevo pensare è nato il libro il libro è stato una piacevolissima sorpresa anche per me e da lì le presentazioni alessandra che diventavano sempre più fino a quando le librerie dissero no ce la facciamo e si cominciò con dei teatri un po più piccoli e 150 e 200 fino a quando siamo arrivati a questo mi hanno detto in bilico tra lo stand up tra stand up comedy e non si sa che perché è veramente difficile a definizione e forse anche questa sua atipicità lo rende così gradito al pubblico una frase che fa gola è la leggo la guida definitiva le combinazioni amorose ci salverà devo confessare che questo sottotitolo non l'ho scritto io queste sono quelle cose che escono quando definitivo amici medi definitivo non c'è proprio niente c'è un modo di giocare comico ma al tempo stesso psicologico io non sono psicologa io vengo dal mio percorso in lettere però appassionatissima anche psicologia autore si autore scrittore sì insomma il foglio bianco è il mio passatempo ecco il mio lavoro però l'astrologia unita la psicologia è quello che mi ha sempre affascinato è giocando questa guida se mi sei di cui parlavi si gioca con i 12 tipi umani e i 12 segni zodiacali uso questo parallelismo perché jung parlava di tipi umani e jung è l'unico dei psicologi stasera ne parleremo seriamente anche che ha dato credito all'astrologia non come previsione del futuro perché quella è una roba dove ci andiamo in pantanale su percorsi a me invece che non mi interessano non sono le mie corde invece jung ti sottolineava la straordinaria coincidenza tra i 12 tipi umani di cui parlava lui in psicologia e i 12 tipi zodiacali io ti metto un po alla prova dimmi so che non vai molto d'accordo con il cancro no allora sfatiamo questa cosa io in scena li dobbiamo un pochettino torturare tutti e 12 perché il gioco è ti ha fuori difetti il cancro è quello che più si può dire si 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 dispettisce l'indomani e mi arrivano mail alla casella di avergetupescia alla pagina facebook al profilo instagram avvelenati io credo perché il cancro questo la mia analisi è un po paracoletto chissà perché ho chiesto cancro sei cancro signor ha fatto una gaffa l'ossi è un segno dominante lo zodiaco a due dominanti il leone e il cancro solo che dal leone te l'aspetti dal cancro li vedete così dolci eterei delicati femminili anche uomini molto teneri non t'aspetti che sotto ci sia il dominante e questa dominanza avviene in maniera molto dolce molto delicata siete delle iene zuccherine non è vero ma cambiamo argomento cambiamo argomento da poco è uscito no non è vero è uscito un libro un altro libro segni particolari sì il secondo figlio edito da il primo edito da salani il secondo edito da trono ed è un figlio altrettanto amato e molto pensato non che il primo sia stato scritto a caso ma il primo come vi ho raccontato è figlio di una in un parto inaspettato mi sono messo la quasi un anno ci ho lavorato il secondo è nato dalle da tutto il primo anno di incontri di questo spettacolo che ancora si svolgeva nelle librerie sentendo le storie delle persone lettere che mi arrivavano poi ho cominciato a curare una rubrica che che mi è piaciuta moltissimo si è creato proprio un gruppo online la tribù la chiamiamo noi e questo libro è un po più incentrato sull'aspetto mitologico perché ogni segno non si sa quando questa molto affascinante avvenuto un abbinamento tra un segno e un mito arriviamo fino alla cultura ellenica prima non si non sappiamo prima non si sa come accade per la mitologia e lì attraverso il mito dove affondo più la mano vado a scavare in un concetto un po osè tant'è vero è quando l'ho proposto all'editore è rimasto poi piace comunque il sabotaggio cioè andare a vedere come attraverso il nostro carattere giocato sempre con i segni zodiacali andiamo a sabotare la nostra vita privata non vogliamo approfondire il segno del cancro per cortesia e te la posso buttare la no ma io l'immagino il cancro per esempio tende a non emanciparsi definitivamente alla figura paterna e materna specialmente quando il rapporto è conflittivo usa questo rapporto conflittivo ad libitum per rimanere in una condizione di figlio a vita e questo gli impedisce di fondare un rapporto pienamente maturo ovviamente si lamenterà piangerà dirà che è colpa degli altri quando invece la responsabilità di una non totale evoluzione non totale non totale taglio del cordone umbellicale io per esempio sono leone quindi non ho di questi cicli di cancro no 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 questa c'è questa amministra a stai cambiando a leo benissimo bene va a posto perché avvengono queste trasformazioni positiva sul cancro comunque per curiosità la sensibilità la sensibilità ma i pro ci sono li dobbiamo li dobbiamo come dire abitare noi mi sono un po indispettita e che si incazzo dai si incavola da morire voi avete sensibilità e memoria e volontà però queste cose vanno usate vanno incanalate dice lungo in chiave costruttiva se invece le incanaliamo in quel lamento perpetuo vittimistico del cancro consigliamo a tutti di non l'ammontarsi l'ascendente lo sai sì ah sì lo vuoi sapere bilancia vado meglio mi alleggerisce mi alleggerisce tutto quello che abbiamo detto non è vero no invece la sensibilità del cancro unità la leggerezza della bilancia e al rigore la bilancia che un segno è il segno dei circensi è un segno di grande rigore di grande esercizio mi sento meglio grazie grazie a voi grazie a te per averci dedicato tutto questo tempo prima dello spettacolo andare un poco a ristrutturare perché se no con le luci abbiamo l'effetto proprio poi vi faremo sapere appunto le prossime date qui all'anchicinema di bari ci portiamo a casa questa vediamo se piace perché ogni sera è una sfida ma vabbè sold out ma devono uscire dicendo che bello tornaci perché sold out se dicono ma che ha fatto sto scemo no devono uscire contenti e se come ogni speriamo anche stasera escono contenti poi dopo l'estate mi sa che qua ci vedremo spesso grazie grazie a te grazie a voi